La campagna degli epurati siciliani del Partito Democratico per riprendersi il partito è già scattata. Obiettivo far arrivare i dem al minimo storico nell'isola per poi rientrare dalla porta principale. Tra gli epurati eccellenti c'è naturalmente Rosario Crocetta, l'ex governatore, che già si è scagliato con Tirrenziani lanciando la sua operazione Verità, andando in giro per le piazze in Sicilia. Ma ci sono anche gli altri dem messi all'angolo e delusi che soffiono sul malumore dei circoli, come ad esempio Antonello Cracolici, Lillo Speziale e Giovanni Panepinto, una contro campagna in grande stile e proprio lo stesso Crocetta ha avviato appunto il suo tour personale per attaccare i renziani. Nel mirino soprattutto Davide Faraona, l'ex sottosegretario, definito da Crocetta un genio della politica che lo ha attaccato per cinque anni con l'unico obiettivo di prendersi il partito. L'ex governatore ha attaccato anche Francesca Raciti, presente al Consiglio Comunale di Catania, chiedendosi perché Costei figura nel PD e quale storia nel partito abbia alle spalle. Dopo il 4 marzo, rimarca Crocetta, capiremo se siamo fuori dal PD o se invece possiamo rimanere in quella che è la nostra casa.